Ben ritrovati nuovamente, Cesar Martignone in vostra compagnia per un video per quanto di Ceccherini Music, una recensione, una prova degli strumenti in vendita disponibili sulle vetrine di Ceccherini ma anche sullo store online, sul negozio online. Quest'oggi prendiamo in considerazione di sistemi di amplificazione per gli strumenti acustici come violini, violoncelli, viola, cioè tutti strumenti ad arco che hanno bisogno di un dispositivo esterno per essere amplificati perché non nascono con la predisposizione a essere amplificati in un sistema di amplificatori o con un mixer o con altre risorse, altri dispositivi che possono servire. Per amplificare questi strumenti. Gli strumenti nascono per avere il proprio volume dato dalle proprie case armoniche e dalla propria costruzione che è una costruzione frutto di un'evoluzione di secoli come il violino, il violoncello, la viola, il contrabbasso. Ma le case produttrici, in particolare la Fishman, la ProDype e la Realist hanno sviluppato tecniche di microfonazione, tecniche di amplificazione di questi strumenti. Le tecniche fondamentalmente sono due. Una è il sensore o la capsula piezoelettrica, cioè sono sistemi che si basano sulla reazione dovuta alla vibrazione dello strumento di alcuni cristalli molto particolari che cambiano le loro condizioni, le loro caratteristiche elettroniche a seconda della vibrazione che viene trasmessa dallo strumento. Quindi vengono appoggiati nello strumento a pressione tramite o delle adesive, con degli adesivi o con una clip o semplicemente appoggiandoli sotto il ponticello di questi strumenti. Quindi vengono messi a pressione, a ridosso della cassa armonica, lo strumento suona, questi cristalli vibrano in un modo ovviamente che non è percettibile all'occhio umano, ma è una reazione fisica molto infinitesimale, ma riescono quindi a carpire il suono e riescono a trasmetterlo al sistema elettronico di amplificazione che sarà un mixer o sarà una cassa amplificata o quello che sarà. Questo è il sistema piezo elettrico, mentre invece il microfono normale, un semplice microfono con una costruzione molto piccola per poter entrare, poter stare nell'ambito di uno strumento come il violino, il violoncello o il contrabbasso o altri strumenti di questa famiglia, è un microfono normale che viene comunque messo, integrato nella costruzione, nella struttura dello strumento senza che sia ingombrante e senza che prenda le vibrazioni che non fanno parte della performance, cioè che non prenda rumori come possono essere per esempio il rumore dell'arco, il rumore dello sfregamento dell'arco o i rumori di pizzicamento delle corde, quindi solitamente vengono applicati o anche in questo caso tramite una clip che poi dopo da luogo dalla clip parte un sistema flessibile, una specie di tubo flessibile molto molto piccolo con in testa il microfono oppure vengono appese in qualche maniera alle corde tramite una gomma, un sistema di gomma che si aggancia alle corde sotto al ponticello, quindi non riscontrano quasi per niente nessun tipo di vibrazione, quindi il microfono rimane come se fosse fluttuante e può prendere la vibrazione, può prendere l'acustica prodotta dalle corde, prodotta dallo strumento in modo naturale, come se fosse un microfono normale infatti sono microfoni molto piccoli e a condensatore, quindi microfoni che hanno necessità di essere alimentati dalla corrente Phantom a 48V quindi bisogna trasmettere corrente Phantom dall'impianto o dalla cassa o dal sistema che usiamo per amplificare e dobbiamo trasmettere questa energia di 48V al microfono perché possa funzionare il primo microfono di cui andiamo a occuparci è il WL21 Pro Dype Lannen ha una capsula omnidirezionale, quindi i suoni bassi, le vibrazioni della cassa acustica, la vibrazione delle corde stesse quindi trasmettere e rendere una buona rappresentazione acustica dello strumento ha un adattatore XLR quindi molto comodo perché permette a quel punto di trasmettere l'energia dei 48V che abbiamo detto prima e implementarlo facilmente con uno standard che è il più diffuso in assoluto che è quello dell'XLR anche conosciuto come Canon si può collegare al Body Pack della Pro Dype ovvero può essere collegato a questo sistema di trasmissione wireless che permette di collegare tantissimi microfoni della Pro Dype quindi diciamo che se uno ha più microfoni o se uno ha comprato inizialmente un microfono con il cavo della Pro Dype può collegarlo al trasmettitore Body Pack che è un trasmettitore che permette di eliminare l'ingombro e il fastidio del cavo fisico quindi trasmettere in wireless con diversi canali che possono essere scelti per non andare a creare conflitti di trasmissione e questo sicuramente è una cosa molto vantaggiosa passiamo a un altro microfono della Pro Dype il CL21 ma le stesse caratteristiche ma applicate al violoncello quindi leggermente più grande il sistema di innesco diciamo così nei confronti del violoncello questa volta parliamo non di una clip che viene applicata alla cassa allo strumento ma semplicemente di un gommino che viene tra virgolette appeso come se fosse un po' una specie di altalena microscopica alle corde sotto il ponticello e lì attaccare il piccolo tubo flessibile che permette di posizionare il microfono nella posizione migliore per raccogliere il suono anche in questo caso la possibilità di applicare il Body Pack una resistenza suona molto alta fino a 140 decibel vuol dire che il violoncello si può suonare in modo fortissimo senza che questo produca una distorsione o un suono alterato del microfono molto positivo un altro sistema questa volta piezo elettrico è quello della Realist il RLST SB1 è di questa marca che ha sviluppato tantissimi tipi di strumento basato sul sistema piezo elettrico e quindi entriamo nel mondo dei piezo elettrici nella nostra piccola recensione e legge le strutture che producono il tono dello strumento cioè è stato pensato e studiato elettronicamente per prendere dalla tavola armonica del violoncello le vibrazioni infatti viene applicato sotto al ponticello da smontare il ponticello e posizionarlo subito sotto la pressione che gli danno le corde che fa sì che il ponticello stia diritto e applicato quindi questo microfono piezo elettrico sulla tavola armonica sulla cassa armonica del violoncello si collega molto semplicemente con un jack un jack placato in oro quindi una conduzione senza perdita di segnale assolutamente bello esteticamente la stessa elaborazione la stessa sofisticazione che troviamo nella realizzazione tecnica dello strumento viene applicata anche all'estetica dello strumento quindi è importante che non ci sia diciamo così una molta tecnica che non appaia come una cosa un po' tecnica come una cosa un po' che contrasta esteticamente con l'eleganza dello strumento del violoncello andiamo al V100 della Fishman è un trasduttore piezo ceramico per violino o per viola è un sistema brevettato questo è la Fishman che anche in questo caso permette di non fare modifiche allo strumento e una cosa carina viene dotato la confezione presenta anche il cavo jack mini jack da una parte jack dall'altra parte per poterlo collegare ai sistemi di amplificazione molto molto leggero una mini presa jack che fa sì che sia quindi molto leggera che si monta sulla cordiera sotto al ponticello e si fa comunque presente la Fishman fanno comunque notare che lo strumento ha bisogno di essere preamplificato cioè ha bisogno di avere un pochino di potenza dal mixer anche se questa cosa non è necessaria può essere direttamente collegato a un'entrata di linea senza bisogno di preamplificazione senza bisogno di dare guadagno in preamplificazione al microfono allora con questo della Fishman passiamo allo stesso strumento ma pensato per violoncello quindi ci stiamo occupando sia di strumenti di microfoni per i violini sia o viole sia i microfoni per i violoncelli quindi vi salutiamo e vi ringraziamo e vi invitiamo ovviamente a commentare le vostre esperienze che microfoni avete provato se vi siete trovati bene con questi microfoni che stiamo recensendo se avete delle domande vogliamo che volete approfondire lo staff di Ceccherini è pronto a rispondere a tutte le vostre domande io sono Cesar Martignone e vi ringrazio per aver visualizzato questo video e vi do l'appuntamento a una prossima recensione su Ceccherini Music e vi ringrazio per aver guardato